Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi ho portato un riguardo il DLC di Natale che la Rockstar lo rilascia il 22 dicembre, cioè martedì della settimana prossima allora ragazzi, io spero che questo DLC sia un nuovo ragazzi, quindi i vestiti, ragazzi usciranno nuovi vestiti detto, nuovi vestiti e oltre ai nuovi vestiti usciranno anche i vestiti ovviamente dell'anno scorso fatto ciò ragazzi, poi dopo questo uscirà anche una nuova macchina che come vedete, ecco la foto che la Rockstar ci rilascerà speriamo che non sia una delle macchine che fa cagare detto ciò ragazzi, poi usciranno nuove maschere di come vedete che sono di questo genere ci sarà anche ragazzi anche questa maschera ci sono vari tipi di maschere poi come sempre ci sarà anche il vestito dal Babbo Natale che voi ragazzi sempre tutti ragazzi lo metteranno mi sicuro ragazzi, poi oltre a questo usciranno nuove auto quindi ovviamente dopo auto non solo tante ma una ragazzi che vi ho mostrato la foto fatto ciò usciranno delle armi che ragazzi non so quale si trattano ma so che usciranno le armi niente ragazzi io spero che questo nuovo adere ci colpisce non sia quello dell'anno scorso che ragazzi anche quello ci ha colpito ci ha colpito in tanti niente ragazzi poi uscirà oltre a questo la neve come sapete la grandissima neve che possiamo fare la guerra con le palle di neve niente ragazzi io oggi mi ho portato questo dlc perché come ha visto diciamo un un bambino cioè un signore non so chi è uno su youtube ha rilasciato cioè che ha trovato delle maschere di Natale proprio suggerite a 5 senza nessun aggiornamento ragazzi mettete il suo canale in descrizione cioè il suo link del video andatelo a vedere e ragazzi niente spero che questo vienerci come avevo detto ci colpisca perché ragazzi veramente serve tanto per noi perché non fa schifo ma ragazzi è da è da amare questo dlc non so che dire poi il mio è un parire il vostro ne è un altro quindi ragazzi non so se avete dei buoni gusti niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto come sempre lasciamo un pollice in su e se non è stato ancora fatto alti contenuti e commentate se il video è stato utile ragazzi mettete il link in descrizione del mio profilo facebook invidatemi la richiesta inoltre metterò il link del mio video precedente quindi andatelo a vedere se non l'avete ancora visto e da zero marrakesh ragazzi questo video può finire da zero marrakesh noi ci becchiamo al prossimo video bella